Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPI League. Un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento per l'A1. In A1 fare attenzione per personale su strada tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Betolle scambio di carreggiata per lavori tra Serre di Rapolano e Armaiolo in direzione Siena. Sulla statale Trebbis tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale di Sestato tra Canili e Val Savignone e tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nord. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!